eccoci qua un'altra splendida giornata di fine inverno ormai le temperature si scaldano siamo qua a Budoia sempre con il buon Gigi che ci porta in compagnia prima andiamo a vedere il Ghor ovvero il sentiero del Ghor bisogna saltare risolto perché la stella è troppo alta non l'avevo spinta non l'avevo spinta Grazie a tutti e qui abbiamo la volpe scolpita nel tronco e qui abbiamo la tartaruga sempre scolpita uno qua, uno lì e poi una riva molto circa un po' qua Vado, vado, vado esatto, che di solito arrivo da qua io esce direttamente qua sul rio Brosa Ben tornati a Polcenigo e ora torniamo è chiuso Grazie a tutti